L'acqua è il mio elemento, è la mia passione e la mia vita. Purtroppo, in molti paesi colpiti d'emergenza, milioni di donne e bambini non hanno accesso ad acqua pulita, sicura, e per questo le loro vite sono a rischio. Con un piccolo gesto noi possiamo fare molto. Possiamo donare acqua pulita e sicura. Dona adesso al 45580, insieme ad Oxfam, per dare acqua a chi non ce l'ha. Dona acqua. Salva una vita. Salva una vita.